Al programma di Maravenier è stato ospite Fabrizio Corona nella puntata esattamente del primo di ottobre dove l'ex fotografo dei VIP, protagonista di un'intervista, ha svelato molti dettagli del suo privato, della sua vita privata anche quindi dell'ex fidanzata Belen Rodriguez, parlando anche di Lele Mora, passando per l'ex moglie di Nina Moric il figlio Carlos e poi il suo lavoro attuale, ricordiamo, dopo un po' di carcere Maravenier ha chiesto a Corona il motivo della fine del matrimonio con la modella croata Ero diventato un demone nel mio lavoro, per il lavoro e il successo ho abbandonato tutto quello che mi circondava C'è una cosa che accomuna tutte le mie donne, che sono persone molto fragili e profonde ha spiegato Fabrizio Corona a Maravenier, svelando anche un retroscena sulla fine del fidanzamento con Belen Rodriguez A Belen voglio un bene che la metà basta Anche lei mi ha lasciato di fronte a tredici anni di galera Se non fossi andato lì, magari non sarebbe mai esistito De Martino, sarebbe rimasta con me Poi ci siamo lasciati e non l'ho mai più vista Un giorno, dopo otto mesi, lei era incinta e capitiamo sullo stesso volo Si mette a piangere, siamo stati abbracciati tutti il volo Adesso ci vogliamo bene, ha detto Fabrizio Corona che oggi ha ritrovato il sorriso grazie a Sara Barbieri Sara Barbieri ha 23 anni ed è presente dietro le quinte per assistere alla sua intervista Maravenier ha voluto fare una sorpresa a Fabrizio Corona e al pubblico di domenica e ne è andata dietro le quinte e ha portato Sara al centro dello studio La 23enne ha abbracciato il fidanzato, ma Fabrizio Corona ha fermato Maravenier La sua famiglia non vuole, perché sono un reietto, ha detto l'ex re dei paparazzi lasciando intendere che i rapporti con la famiglia della Barbieri non sono per niente buoni Fabrizio Corona ha parlato della fidanzata Sara Barbieri e del loro profondo legame È la prima donna della mia vita a cui non faccio del male, ha confidato a Belve mentre Maravenier ha detto Sto con una ragazza di 23 anni con la testa di 50, ma ha la leggerezza di una 23enne Non voglio stare con una ragazzina perché voglio fare il 50enne Playboy ma perché lei ha voglia di vita Il video finisce qui ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video